Siamo a Via Nardo di Pace, quartiere di Finocchio. Questa è una strada di collegamento tra due quartieri e quindi potrebbe essere utilizzata da tante persone per evitare di fare traffico su Via Casilina. Adesso sto cercando di passare con l'auto ma è praticamente impossibile perché sto passando direttamente sull'immondizia. Siamo di fronte a un vero disastro che tra l'altro è stato annunciato già con una separazione e quindi questo non è un discorso di pochi giorni ma di anni. Abbiamo proprio di tutto, qualsiasi forma di rifiuto è presente. Eternit, ovviamente anche pericoloso perché è in avanzato stato di decomposizione. Di tutto. Speriamo che questa cartolina, questo videomessaggio arrivi forte e chiaro all'amministratore delegato dell'AMA. Grazie a tutti e speriamo di vedere Roma pulita anche grazie all'azione del Movimento 5 Stelle. Buon movimento a tutti. Nardo Di Pace, quartiere Finocchio Roma, parte seconda. Adesso stiamo documentando l'altra parte della strada che ovviamente parliamo di quasi un chilometro anzi forse anche più di un chilometro di strada totalmente, ripeto, totalmente inaccessibile perché bloccata dai rifiuti, stiamo passando con l'auto direttamente su cumuli di rifiuti bruciati e come potete vedere c'è di tutto, adesso è perfino bloccata dalle macerie e proveremo a passarci sopra con la macchina, ecco, con un po' di difficoltà, anzi con molta difficoltà ci sono dei cumuli enormi di materiale di immondizia, di legno e qui addirittura come potete vedere ci sono mater, materassi bruciati, scatoloni, gomme, frigoriferi, divani, c'è veramente di tutto. L'odore è agri perché gli incendi sono ripetuti e questo è tutto. Ottavo Municipio, Movimento 5 Stelle, Roma.